Fa discutere l'ipotesi di istituire una tassa di soggiorno a Ragusa e negli altri comuni blei da far pagare ai turisti per ogni pernottamento. Tra 0,5 e 5 euro è il contributo che i comuni possono chiedere ai villeggianti in base alla categoria delle strutture ricettive in cui alloggiano. Secondo il presidente di Federalberghi, il rosario di Bennardo, però discutere è inutile. Si tratta di un balzello assai poco gradevole, ma è ormai stato istituito e non si torna indietro. Piuttosto a ferma di Bennardo è bene pensare a come verranno spesi gli introiti della tassa da far pagare ai turisti. L'obiettivo infatti dovrebbe essere quello di girare almeno l'80% del ricavato ad un fondo da utilizzare solo per finanziare iniziative che incrementino il turismo. È stata un'imposizione voluta dal Lanci nazionale. Noi come Federalberghi nazionale ci siamo battuti serenamente contro questa tassa di soggiorno che è un balzello inutile nei confronti dei turisti. Ma visto che è stata approvata ed è già effettiva, come in molti comuni, tra cui Catania, quello che chiediamo è che vengano, quantomeno questi fondi, vengono messi in un capitolo a parte dei comuni e che vengono poi spesi per il turismo, concertando l'eventuale spesa con gli operatori del settore. In ogni caso, prima di vedere questa tassa applicata, dovrebbe passare circa un anno. Catania l'ha già deliberata ma non ha ancora riscosso un solo euro perché bisogna dare il tempo alle strutture alberghiere di organizzarsi. Molti alberghi, residenze e villaggi vacanze infatti vendono con largo anticipo pacchetti di servizi alle agenzie e aggiungere uno o più euro per ogni turista a contratti già firmati è impensabile. Resta poi da capire come si dovranno comportare i gestori delle strutture che offrono ospitalità domestica, come i B&B e gli agriturismo. Grazie a tutti.